ELECTRESS SAFETY, SUCTION CAPITAL IN THE SEA, POCKET IN FRONTO OF YOU, THANK YOU FOR YOUR ATTENTION. Per ulteriori informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a guanti. Vi ringraziamo per l'attenzione. ELECTRESS SAFETY 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.